La parola di oggi è pania. La pania è una materia appiccicosa ricavata dalle bacche del vischio o dalla corteccia dell'agrifoglio o di altre materie vegetali. Usata a un tempo, oggi però è una pratica vietata, per catturare piccoli uccelli. La si spalmava su bastoncini o fuscelli, dette pagnozze o pagnoni, ai quali i volateli più piccoli rimanevano attaccati. In genere vischio e pania sono usati come sinonimi. I verbi derivati da queste parole, quindi impaniare e invischiare, con i loro riflessivi impaniarsi e invischiarsi, hanno quindi rispettivamente il significato di spalmare qualcosa di pania e di rimanere attaccato alla pania. Come intuibile, di queste parole è stato fatto un largo uso in senso estensivo, che non sono in letteratura, Dante, Ariosto, Pascoli, Manzoni per citarne alcuni, ma anche nel linguaggio corrente. Pania ha quindi anche il significato di lusinga, di allettamento ingannevoli, di attrazione amorosa o di altro genere, di situazione che attrae e seduce fortemente, che lega o imprigiona. Sinonimi possono essere inganno, tranello, insidia. Molte sono le frasi in cui l'espressione viene comunemente usata. Cadere nella pania, disporre e ottenere la pania, essere preso nella pania e simili, per dire cedere agli allettamenti, alle lusinghe dell'amore, agli inganni di un imbroglione, oppure impegnarsi in affari, questioni, brighe, relazioni, da cui poi sia difficile ritrarsi. Cerca l'etimologia, molti esperti fanno riferimento al latino pagina, che originariamente significa pergola, sostegno per la vite. Pagina a sua volta deriva da pangere, che vuol dire assicurare e fissare. È un'etimologia che lascia perplessi, anche perché anche la pagina di un quaderno ha la stessa etimologia. Che cosa hanno infatti pagina, pergola e pania di comune? A mio avviso proprio l'etimologia pangere, cioè fissare. Sulla pagina si fissano le parole, alla pergola si fissano le piante di vite, sulla pania si fissa nei me i poveri uccellini.